Maria Mascioli, oggi a Loreta Putino si inaugura il cartellone estivo con delle belle manifestazioni che spaziano dalla cultura alla gastronomia. Sì, un cartellone estivo del 2017, veramente molto ricco di eventi, che diciamo che è un po' per tutti i gusti, accontentano i bambini, ma poi soprattutto per promuovere il nostro territorio. Ci sono degli eventi anche di un certo rilievo quasi mondiale, c'è infatti l'inaugurazione della mostra di Michael Kenna, un fotografo di fama mondiale, che sarà inaugurata al Palazzo Casa Marte l'8 luglio. Ma poi ci sono tanti eventi, musica, sport, cultura, promozione del nostro territorio per quanto riguarda anche i prodotti enogastronomici, anche per quanto riguarda l'architettura del nostro paese, quindi visita ai musei, mostre, ce n'è di tutto e di più.